buongiorno oggi è lunedì ci troviamo al nuovo di via olimpia per la settima gara di ritorno del campionato provinciale categoria giovanissimi girone chieti da questo lato c'è l'ortona calcio con la classica maglia nero azzurra che si stanno riscaldando agli ordini del loro mister la ci sono i due portieri e i ragazzi della panchina a quest'altro lato c'è la virtus castelfrentano che giocherà con la classica maglia giallorossa questo è il blocco dei titolari che partiranno titolari c'è il mister giovanni di giulio la in fondo c'è daniele ucci e diego i portieri qua c'è il gruppo della panchina è un po corta sta panchina oggi per defezioni di varie varia natura ecco fra poco inizierà la gara il direttore di gara e della sezione aia di lanciano ecco che si sta riscaldando anche lui con la t shirt bianca lo si riconosce con i calcettoni gialli della divisa ufficiale dell'area come pubblico qua c'è la nonna di simone e lorenzo lorenzo che farà oggi il suo esordio partendo dalla panchina lorenzo vinci guerra la c'è il cugino simone mai è malato e pertanto oggi non gioca farà da spettatore abbiamo altri tre esordi in panchina c'è oltre a vinci guerra lorenzo c'è pizzi nicolò di camillo e c'è l'altro ragazzo veronesi non c'è ne sono tre all'esordio di camillo vinci guerra e e nicolò pizzi pizzi lo riconosce ok sta a posto grazie tra poco ok ragazzi rientriamo per l'appello su